A Pescara c'erano, se non ricordo male, Pelizzoli, Belardi e soprattutto Pigliacelli che era un prospetto allora perché Pigliacelli è un 1993, se non vado a rato. Era l'Under 21, quindi aveva appena 20 anni nel 2013. Poi strada facendo ha avuto la sua occasione a Cesena di giocare e l'ha toppata perché si fece espellere durante la gara e poi ha perso due partite. In quel frattempo è entrato Belardi che faceva il terzo. Che parla al rigore proprio a Cesena. A Cesena, poi la partita fu protagonista a Cesena, poi la partita dopo fu protagonista in casa con lo Spezia. E quindi in quel momento là il mister doveva fare una scelta, è giusto che ha puntato sull'esperienza di Belardi che già conoscevamo, che l'avevamo avuto a Udine, dove aveva fatto bene con noi. Poi a gennaio è voluto andare via e niente. Diciamo una testa un po' particolare però ha talento. C'ha molto talento però un po' particolare, è detto giusto. Prima ho detto di curare i particolari, i dettagli, la prevenzione, tutti questi lavori qua. E lui queste cose qua purtroppo non lo so, non ce l'ha, non ce l'ha. C'ha delle belle qualità però non sfrutta le qualità che c'ha. Perché lui poteva stare benissimamente. Nonostante c'è una struttura che non è piccola di struttura, però c'è una forza esplosiva, una forza elastica da fare paura. Gioca con i piedi, uno spettacolo. Però delle volte lui è un peccato perché è un ragazzo che poteva fare una carriera, secondo me una carriera diversa. Sono in perfetta consonanza, del resto puntava tantissimo su di lui, anche Zeman, poi sappiamo com'è finita. Ti faccio davvero l'ultima. Quanti rimpianti per quel campionato, per quello che avrebbe potuto essere non è stato. Io ricordo un gran finale di girone di andata, otto vittorie, due pareggi, 26 punti, poi il crollo. Vabbè, purtroppo si è imbeccato in una situazione, su sei partite abbiamo fatto sei sconvitte, la partita con l'embole in casa, che non meritavamo di perdere. E poi ci sono state... In 11 contro 10. Poi ci sono state alla ripresa, subito con la Juve Stabia si vinceva e si è persa un'altra partita. Però a Bari avevamo fatto bene, sbagliando, queste cose qua. Però poi la società ha voluto cambiare. Però io ero convinto che quella era... Se tu riuscivi a tirare fuori un risultato, dopo secondo me si riprendeva il filotto giusto. Il filotto giusto. Quindi resta un pezzicolo di rimpianti. Molto di rimpianti, perché qua tra l'altro a Pescara mi sono trovato bene. C'è una grossa società, Sebastiani l'ha dimostrato nel tempo. Siamo andati via noi, ha vinto due campionati. Porta sempre a Pescara, B e A, B e A, B e A, che non è facile. Da qua passano tanti giocatori. Quanti giocatori giocano in Serie A? Quando c'ero io, Torreira era in primavera, adesso dov'è? Arsenal. Quindi, Sebastiano qualcosa di buono ha fatto. Io molte volte leggo che lo contestano, questo, quell'altro. Però alla fine il Pescara tra B e A, B e A, B e A, pure come società, sempre pagato e ringraziato. Non ci ha fatto mancare mai niente, io devo dire la verità. I rapporti sono rimasti ottimi. Sì, 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 ma reciproca, massimo rispetto. Ma con chiunque c'era. Eppure perché ci hanno trattati tutti bene. Ma anche i tifosi, non posso solo che parlare bene.